Oroscopo di sabato 31 dicembre 2016. Toro. Gemelli. Cancro. Cancro. Se parenti o amici stanno interferendo nella vostra vita di coppia, cercate di stabilire confini netti per evitare la loro intromissione. Anche lintimità potrà beneficiare della ritrovata serenità. Per voi single, la persona con cui flirtate vi darà modo di scoprire sensazioni nuove che non immaginavate. Una nuova storia promette bene. Leone. Arrivare a sera esausti dal lavoro non vi aiuterà in questo. Cercate quindi di condividere pienamente ogni momento disponibile. Amici single, per voi che amate i piaceri della vita, cosa potrebbe esserci di meglio di una serata romantica in compagnia di una persona affascinante?. Vergine. Scorpione. Navigazione complicata a causa di un clima agitato nel vostro rapporto di coppia. Tutto però può essere superato con un po più di reciproca compressione. Amici single, cercate di riprendervi dallultima delusione d'amore. Le stelle tracciano per voi un percorso pieno di buone opportunità. Preparatevi ad un incontro che potrebbe cambiare il vostro futuro sentimentale. Sagittario. Sagittario. Per gioco o per necessità tenderete ad assumere un atteggiamento moggio e quasi scoraggiato. Ma non dovete preoccuparvi, ciò che vorrete è solo poter soddisfare un grande desiderio di essere consolate dal vostro partner. Se siete single, per voi si prospetta una giornata segnata da nervosismo e molta tensione. Duro confronto con una persona che non ha più alcuna ragione di esistere nella vostra vita. Capricorno. Se vivete in coppia, vi darete un grande affare per predisporvi nel migliore dei modi a festeggiare la fine d'anno insieme al partner. Ero scoppiettante sotto le coperte. Amici single, oggi l'ottimismo si insedierà stabilmente nella vostra sfera sentimentale. Non sarà un sogno riuscire a stabilire un contatto la persona che vi attrae. Acquario. Se vivete in coppia, ci vorrebbe proprio un po' di relax per potervi riprendere dagli stravizi dei festeggiamenti passati e prepararvi a quelli di fine d'anno. Sarà una serata molto distensiva quella che passerete tra le braccia del partner. Amici single, brutte notizie se siete tra quelli che quando arrivano le feste tendono a chiudersi in casa. Quest'anno preparatevi a. Cambiare abitudini. Una persona affascinante riuscirà a tirarvi fuori dalla vostra tana. Pesci. Qualche incertezza oggi potrebbe sminuire il vostro livello di coinvolgimento nel rapporto di coppia. Cercate di recuperare larmonia col partner per evitare di arrivare spenti ai festeggiamenti di fine d'anno. Amici single, per voi sarà una giornata di decisioni importanti in ambito affettivo. Se notate che il legame non funziona come avevate immaginato, sarebbe meglio evitare di continuare a trascinarlo stancamente. . .